Siamo gli alunni della scuola Santa Arcissio. Oggi vi vogliamo presentarvi l'esplosione di Corvori. Siamo gli alunni della scuola Santa Arcissio. 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 Ora vogliamo mostrare un'esplosione di colori. Siamo gira. I feel red. I feel orange. I feel yellow. I feel green. I feel yellow. I feel blue. I feel violet. Oddio. We love you! chosen people Grazie a tutti.